buongiorno amici buongiorno amiche oggi abbiamo una novità come potete vedere un display che renderà la vostra auto un pochino più multimediale in quanto vi permetterà di avere android auto semplicemente nella vostra auto che attualmente non lo ha che quindi ha un display privo di la funzione android auto e quindi un display aggiuntivo vedete qui una piccola panoramica qui c'è il manuale in inglese è fatto bene è chiaro mi piace quando l'accendete che oltre alla scritta con il nome del produttore appare subito le mail per il supporto questo già fa capire l'attenzione che ha questa ditta per il post vendita guardate bene nel sito e vedrete che hanno moltissimi modelli e hanno una storia quindi non è un brand appena nato ma è un brand abbastanza famoso per chi frequenta questi tipi di prodotti come come me questa è la confezione io l'ho già aperta per voi qui vedete c'è il braccio per attaccarlo al vetro questo qui si aggancia dietro il display poi ve lo farò vedere questo è un una sorta di parasole che si applica a scatto qui questo è il cavo audio che potete dopo collegare da qui alla vostra auto se avete la presa aux e in questo caso il suono del display lo sentirete nelle casse della vostra automobile oppure potete solo utilizzare le casse integrate oppure ancora utilizzare la trasmissione fm cioè qui impostate una adesso ve lo faccio vedere qui impostate una stazione radio 8750 la stessa 8750 la impostate sulla vostra auto radio fm a quel punto i suoni del del display li sentirete anche le telefonate le sentirete nelle casse dell'auto sfruttando la la tecnologia radio fm allora finiamo di vedere in confezione questo è lo snodo per per regolare il display una volta attaccato questa è la possibilità di attaccarlo anziché alla ventosa lo potete o avvitare o ad esempio utilizzare il un un adesivo che poi vedete di marca della 3m quindi avete le scelte che volete per applicarlo nella vostra auto come volete come vi pare allora il display non è molto grande è da 7 ne ho visti anche di molto più grandi e li trovate recensiti sul sul canale quindi va un attimo a vostra scelta vostra descrizione come lo volete la luminosità è media io attualmente l'ho messa al massimo questa modalità notte questa metà giorno non è un faro è ne ho viste di più alte ma comunque è accettabile la risoluzione è abbastanza buona adesso magari prima di entrare nelle poche opzioni vi faccio vedere come anzi ve lo faccio vedere alla fine com'è fatto perché adesso l'ho sistemato qui che cosa ho fatto io appena l'ho accesso l'ho connesso al bluetooth del mio smartphone quindi il mio smartphone io gli ho detto di cercare il dispositivo di connettersi punto non ho fatto non ho fatto altro qui vedete c'è la sezione dedicata a chi ha un iphone che quindi potrà utilizzare o l'opzione mirroring di iphone oppure l'opzione carplay wireless qui abbiamo la la sezione android dove questo è il classico android auto auto link serve per connetterlo in i mirroring e poi vediamo un attimo qui sotto c'è il bluetooth ci possiamo anche andare adesso è occupato perché io sono collegato ad android auto quindi questo qui lo potete la funzione la potete utilizzare quando non siete collegate ad android auto la usb attualmente non l'ho inserita invece ho inserito una micro sd card su cui ho messo sia video che musica e in realtà mi riproduce solamente la musica ecco l'audio è abbastanza è abbastanza pulito è abbastanza potente notevole non è male da questa chiaramente la cassa integrata poi come vi ho già detto c'è la possibilità di utilizzare o il via cavo o la connessione fm per sentirlo sulle sulle casse dell'auto torniamo al display principale vedete è stata abbastanza veloce questa l'abbiamo già vista le impostazioni sono molto scarne la lingua italiana la retroilluminazione io ho messo alla massima potenza di 10 sia notte che giorno oratore non ho capito che è magari scrivetemelo nei commenti questa guida destra qui da sinistra le impostazioni predefiniti la versione del sistema che non ci dice non ci dice granché quindi vedete poi ci abbiamo questa opzione il wifi attenti che se qua mettete la banda da 2 non si connetterà ad android auto perché android auto usa la 5 questo è la possibilità di prendere una retrocamera opzionale che però non è non è compresa nella confezione di questo prodotto quindi la dovete comprare a parte io magari vi consiglio di comprarla sul loro sito per una maggiore compatibilità e assistenza post vendita il fatto che qui è giallo ci fa capire già che siamo connessi ad android auto e adesso ve lo faccio vedere vediamo un po che cosa ho sbagliato ma non credo di aver sbagliato nulla andiamo a vedere il wifi wifi va bene guarda sul cellulare se per caso ho spento il wifi no sono connesso correttamente al bluetooth vediamo un attimo ecco in realtà avrei dovuto confermare l'accesso ad android auto sulla sul display principale cosa che ho fatto e subito vedete si è aperta la classica schermata di android auto che tutti conoscono vedete spero previsioni meteo domani a roma avete visto l'assistente vocale funziona spotify funziona e quindi con una spesa diciamo abbastanza abbastanza ridotta circa sui 130 dollari ma poi ho visto che spesso ci sono dei dei coupon ci sono possibilità di sconti vi mettete in macchina un un prodotto che appunto vi per un display secondario che vi permetterà nella vostra auto di usufruire di android auto come sempre però adesso vi ho detto quello che mi piace vi dico anche quello che mi piace meno allora con spese un poco più grandi sui 150 180 dollari trovate dei display che però hanno anche il play store hanno anche il hanno anche la possibilità quindi di utilizzare installare app come youtube come netflix vi sono dei display che hanno anche il gps integrato cosa che questo non ha utilizza sostanzialmente questo qui è per avere android auto sulla vostra auto punte basta se vi serve anche un installare app dovete rivolgervi ad altri ad altri prodotti altra mancanza è che la trasmissione dei suoni avviene in fm in altri box avviene anche via bluetooth e qui non c'è questa possibilità chiaramente fm funziona funziona bene ma il suono non è pulito al 100% quindi se siete degli audiofili non apprezzerete questa questa soluzione quindi ecco dovete un attimo valutare voi io vi metterò in descrizione il link per per l'acquisto se ci sono delle domande fatele pure nel box commenti saluto pasqui che ci ospita nel suo nel suo canale e state connessi perché ho in arrivo tanti prodotti dalla cina che non vedo l'ora di proporvi in video ciao